Una pausa golosa, uno spuntino, un aperitivo in banca. Da oggi si può. Per la prima volta in una filiale di Intesa San Paolo entra uno degli store di Autogrill, Puro Gusto. La filiale scelta per questa novità è quella di Corso Vercelli, in pieno centro a Milano, dove il bar e la banca si contaminano, come ci racconta Andrea Lecce, responsabile di direzione marketing, banca dei territori di Intesa San Paolo. Abbiamo pensato a questo spazio come uno spazio aperto, accogliente, dove si possano condividere delle esperienze e anche dei momenti piacevoli. Quindi in questo senso abbiamo iniziato a lavorare creando dei momenti di condivisione rappresentati e simboleggiati dal tavolo, dal bancone dell'accoglienza, da spazi aperti, da salotti e anche da zone riservate per la clientela. La filiale rinnovata di Corso Vercelli diventa così una piattaforma per il cliente dove condividere nuovi spazi in una modalità insolita per una banca, in linea con la filosofia dello sharing che ispira i nuovi progetti di Intesa San Paolo. Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e provincia di Intesa San Paolo. Noi vogliamo al tempo stesso animare la nostra filiale creando dei punti di collegamento con dei brand esterni che possano valorizzare l'esperienza del nostro cliente in filiale. Ovviamente per favorire una sempre più intensa frequentazione della filiale e ovviamente attirare anche clienti, prospect, nuovi che si possano trovare bene in questo format. La nuova filiale ha due ingressi, uno fronte strada direttamente nella caffetteria e uno diretto in banca per i clienti, anche se all'interno i due ambienti sono del tutto comunicanti. Al banco di Puro Gusto la proposta copre ogni esigenza della giornata in linea con l'apertura della filiale, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e al sabato dalle 9 alle 13. Si va dal salato al dolce, dai piatti caldi a quelli freddi, accompagnati da succhi, smoothies, drink alcolici e ovviamente l'immancabile caffè. Ezio Ballarini, group marketing officer di Autogrill. Puro Gusto è un punto vendita, come dicevo, una bottega all'italiana. Lavoriamo con alcuni partner di eccellenza, Gambero Rosso per la scelta dei prodotti e per la ricettazione dei nostri prodotti, Kimbo per il nostro caffè che ha una particolarità in più, viene tostato ogni giorno, più volte al giorno all'interno di ciascun puro venta di Puro Gusto. Puro Gusto è italiano, è nato italiano, è già stato esportato in altri 9 paesi e vuole portare proprio questa esperienza della bottega italiana, del luogo dove non solo si compra ma si sta anche bene e si sta con gli amici o con i colleghi o anche col proprio consulente bancario in questo caso per discutere intorno a un buon caffè. Quella di Corso Vercelli in realtà potrebbe essere la prima di una serie di aperture che vedono la filiale affiancate da attività di ristoro. Noi pensiamo ovviamente di replicare questa iniziativa su altre filiali anche in posizione diversa, quindi casomai anche in downtown e sicuramente anche vedere marchi diversi. E chissà che a servire un caffè non si trovi un cameriere come Pepper, il robot dell'Innovation Center d'Intesa San Paolo, capace di relazionarsi e interagire con le persone. Ciao, a presto! Fantastico!